Io attualmente sto frequentando l'attività di tirocinio del secondo anno. L'attività di tirocinio qui in Humanitas sicuramente è molto stimolante perché abbiamo la possibilità di vedere nella pratica quello che fino al giorno prima abbiamo studiato sui libri. In più, grazie all'aiuto dei tutor, abbiamo la possibilità di avere davvero un feedback di quello che stiamo imparando, di quello che stiamo facendo e di capire qual è lo scopo del nostro lavoro. In più, essendo Humanitas un ospedale universitario, abbiamo la possibilità di interfacciarci con altre figure, soprattutto infermieri ma anche dottori. Sicuramente Humanitas è un ospedale molto all'avanguardia anche sul piano della fisioterapia e questo ci permette di venire subito a contatto con tecnologie come per esempio la realtà virtuale. In più, abbiamo dei tutor che ci seguono molto da vicino e l'organizzazione stessa dell'università ci permette di essere molto seguiti. Proprio per questo, a partire dal secondo anno, abbiamo anche la fortuna di poter frequentare dei tirocini esterni che ci permettono di vedere come sono le realtà al di fuori di Humanitas. Perché quando in un domani dovremo esercitare in autonomia la nostra professione, dovremo essere in grado di rapportarci e di interfacciarci con tutte le realtà che ci circondano. Sicuramente una parte importante della giornata è occupata dalle lezioni o dall'attività di tirocinio. La cosa bella è che siamo un gruppo piccolo, siamo solo 20 ragazzi e questo ci ha permesso di creare un rapporto molto forte e quindi di coltivare le nostre amicizie anche al di là delle attività didattiche. Io direi che il primo giorno di tirocinio è qualcosa di indimenticabile. Mi ricordo in particolare la prima volta che sono entrata nella camera di un paziente e mi sono resa conto per la prima volta che il paziente per noi non è solo il frutto del suo intervento, ma è anche un piccolo mondo a sé in cui noi dobbiamo essere in grado di entrare e quindi di instaurare dei rapporti relazionali importanti per far sì che lui si fidi di noi.